Perché non riesco a ridurre il grasso nella pancia e nei fianchi? Come si può ridurre il grasso addominale? Capire come fare a ridurre il grasso addominale in modo intelligente e sano è la parte più facile. Quello che però devi assolutamente sapere è che una sostanza chimica particolare prodotta naturalmente dal tuo corpo potrebbe essere il vero ostacolo che ti impedisce di riuscirci. E questo nemico nascosto che può sabotare i tuoi sforzi di ridurre il grasso addominale? Molto probabilmente. Esserne consapevoli è il primo passo fondamentale che potrebbe ribaltare completamente la tua situazione. Ma non preoccuparti, nel video non solo ti spiegherò questa sostanza ma ti darò anche dei suggerimenti per gestirla al meglio. Una volta scoperto questo fattore causativo sarai pronto a mettere poi in pratica i 5 passi fondamentali che ho spiegato nel precedente video parte 1 che puoi trovare qui sotto o al termine di questo video. Segui attentamente i miei consigli e inizierai a vedere dei cambiamenti in poche settimane senza dover ricorrere a estenuanti allenamenti in palestra o a diete drastiche non salutari. Ovviamente se vuoi, se puoi andare in palestra, fare esercizio, benvenga, no problem. Ma come dico, non è assolutamente necessario. Comunque, il fatto che tu stia ora seguendo queste importanti informazioni dimostra la tua determinazione a prendere in mano il controllo del tuo corpo e della tua salute. Perciò, rilassati ora, in soli 5 minuti ti spiegherò cos'è questa sostanza sabotatrice, quanto può impedire di ridurre il grasso addominale, ma come può anche essere d'aiuto nel ridurlo e infine cosa fare a riguardo. Inizia qui un percorso astuto e salutare verso il tuo obiettivo di ridurre e potenzialmente eliminare il grasso nella pancia e nei fianchi una volta per tutte. Qual è la sostanza chimica che influenza la distribuzione del grasso corporeo negli uomini e nelle donne? La prima cosa da capire è che il modo in cui il corpo regola il metabolismo e la distribuzione del grasso è fortemente influenzato dall'equilibrio ormonale o endocrino, cioè il sistema di segnalazione chimica del nostro corpo. In questo video vedremo appunto due tipi di sostanze chimiche prodotte dal corpo chiamate ormoni, assolutamente cruciali nel ridurre il grasso addominale. Equilibrio ormonale, testosterone ed estrogeno Esistono due ormoni steroidei che giocano un ruolo chiave nel causare l'accumulo di grasso addominale, il testosterone negli uomini e l'estrogeno nelle donne. Questi ormoni sono fortemente coinvolti nella distribuzione del grasso addominale. Le donne con una dominanza di estrogeni tendono a immagazzinare più peso, concentrandolo soprattutto sui fianchi, sulle cosce e sulle natiche. La cosiddetta forma a pera, mentre gli uomini con bassi livelli di testosterone tendono ad accumulare grasso nell'addome, la famosa forma a mela. Cos'altro è coinvolto nella riduzione del grasso addominale? In questo video stiamo considerando tre fattori chiave. Eccoli. Per ridurre il grasso addominale è fondamentale quindi avere un equilibrio degli ormoni come il testosterone ed estrogeno, oltre alla loro corretta interazione con il DNA. Mi spiego. Il corpo umano contiene informazioni simili a un elaborato database, qualcosa simile a una grande biblioteca, dove ogni libro rappresenta una parte delle istruzioni su come il nostro corpo funziona. Il DNA è come il libro principale di questa biblioteca, contenente tutte le informazioni fondamentali su di noi. Alcuni altri libri rappresentano le diverse parti del nostro corpo, come il cuore, il cervello, i muscoli, eccetera. Tutto ciò che accade nel nostro corpo è guidato dalle istruzioni contenute nel DNA e negli altri libri, che lavorano insieme come una squadra per mantenerci sani e funzionanti. Ora, il nostro corpo contiene anche alcune chiavi speciali, chiamate testosterone e estrogeno. Queste chiavi possono aprire il libro del DNA e fare alcune cose importanti. Quando il testosterone e l'estrogeno trovano la giusta parte del libro, chiamata recettore, aprono il DNA e possono cambiare alcune delle istruzioni al suo interno. Ecco come funziona. Apertura del libro Il testosterone e l'estrogeno possono aprire il libro del DNA nelle pagine che dicono al corpo di immagazzinare quindi il grasso addominale. Modifica delle istruzioni Quando il testosterone e l'estrogeno riescono a trovare queste parti del libro, possono cambiare leggermente le istruzioni. Invece di dire al corpo di immagazzinare il grasso addominale, possono dirgli di bruciarlo. Conformità alle nuove istruzioni Il corpo allora segue queste nuove istruzioni e inizia a bruciare il grasso addominale. Cosa posso fare per facilitare questo processo? Ottima domanda. Bene, mantenere i livelli sali di testosterone e estrogeno nel corpo significa fare alcune cose, come avere uno stile di vita sano, limitare l'alcol, smettere di fumare, assicurarsi di ottenere abbastanza sonno di qualità ogni notte, evitare lo stress, evitare la sedentarietà, evitare carenze di nutrimenti, evitare gli steroidi anabolizzanti, prestare attenzione ad alcuni farmaci come i beta bloccanti e i diuretici e altri che possono influenzare i livelli di testosterone ed estrogeni nel corpo. Perciò consulta sempre il tuo medico prima di assumere qualsiasi tipo di farmaco. Può l'alimentazione controllare i livelli di testosterone ed estrogeno nel corpo? Sì, assolutamente. L'alimentazione può influenzare i livelli di testosterone ed estrogeni nel corpo. Una dieta equilibrata e ricca di nutrimenti può sostenere la produzione ottimale di questi ormoni e contribuire quindi al loro equilibrio. Nel video che sto per menzionare capirai come fare. Cos'altro necessita per ridurre il grasso addominale? Il buonsenso e l'autocontrollo intenzionale sono due aspetti importanti. Non è necessaria una dieta radicale, ma non puoi neppure affidarti solo a un particolare alimento o bevanda o spezia miracolosa o un esercizio specifico con la speranza che da soli questi possano bruciare il grasso della pancia, dei fianchi, delle cosce e sulle natiche. Sappiamo tutti che la bacchetta magica non esiste. Devi invece affrontare la sfida considerando e intervenendo principalmente sul testosterone se sei un uomo e sull'estrogeno se sei una donna. Funziona, vedrai. Come lo so? Lo so perché ho potuto vedere negli anni come innumerevoli persone sono in effetti riuscite a ridurre il loro grasso addominale, a snellire e a migliorare la loro salute. Perciò controlla questo video che ti spiegherà esattamente da dove cominciare e come fare a ridurre il grasso addominale e sottocutaneo in modo intelligente, sano e duraturo. Se invece hai già visto il video come fare a ridurre il grasso addominale parte 1 dai un'occhiata a quest'altro video altrettanto cruciale che spiega un ormone particolare che influenza la produzione di testosterone ed estrogeno condizionando il nostro stato mentale ed emotivo e come potrebbe anch'esso contribuire ad accumulare o ridurre il grasso addominale. Iscriviti, condividi questo video, aiutami a crescere il canale, se il video ti è piaciuto metti un pollice all'insù e se ti va lascia un commento qui sotto. Mi apprezzerò senz'altro. Mi apprezzerò senz'altro.